Salgono i casi di contagio al coronavirus nel Vesuviano, ieri a Torre del Greco registrati 26 nuovi casi positivi e 31 nuove guarigioni. È quanto trasmesso dal centro operativo comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'Aso Napoli 3 Sud e con unità di crisi regionale. Attualmente a Torre del Greco sono 683 i contagiati, di cui 39 in regime ospedaliero, resta 98 il dato dei decessi. Nelle ultime 24 ore certificati 14 nuovi casi a Torre annunziata, a fronte di 92 tamponi effettuati. Al contempo si registrano anche 21 guarigioni. Il rapporto tamponi positivi si attesta al 15,21%. Scende a 918 il numero di cittadini attualmente positivi, 909 posti in isolamento domiciliare e 9 ricoverati. 39 sono i morti dall'inizio della pandemia. Boom di positività nel comune di Castellammare che negli ultimi due giorni registra 144 cittadini positivi al virus. Tra i contagiati anche 22 piccoli tra i 2 e i 9 anni, 27 invece i guariti. Ricordo che nelle scorse ore il Tar ha respinto il ricorso di alcuni genitori che chiedevano la riapertura delle scuole di Castellammare di Stabbia. Una sentenza che ci dà ragione su tutta la linea e che conferma la necessità di adottare misure restrittive in questa fase a tutela della salute pubblica, ha affermato il sindaco Gaetano Cimmino.